Gli scorci più suggestivi del paese come scenario teatrale per raccontare lo ius primen octis, amore e morte nel medioevo cilentano, è l'iniziativa del comune di Castellabate che nell'ambito del luogo dell'incanto, la rassegna culturale cofinanziata dal POC Campania 2014-2020 propone questo weekend a visitatori e cittadini. La rappresentazione teatrale in collaborazione con Amedeo Colella, la bottega teatrale di Castellabate e i costumi di Alessandra Morelli conduce tra vicoli e palazzi storici poco conosciuti per uno spettacolo davvero coinvolgente. Uno degli angoli caratteristici del nostro centro storico è che sarà un angolo di palcoscenico, tanti palcoscenici nel centro storico tra storia, cultura e soprattutto storicità del borgo. In questo weekend un'altra bella risorsa, la nostra bottega teatrale, la nostra fucina proprio teatrale con artisti del posto e sotto la sapiente regia di Amedeo Colella che è un Castellabatese doc. Ius primen octis è un racconto di amore e morte nel medioevo cilentano, vero e proprio. Vari angoli di Castellabate saranno proprio il teatro naturale di questo appuntamento che rientra nell'iniziativa di Castellabate e il luogo dell'incanto. Quindi è un progetto che è stato spalmato proprio nel famoso periodo della destagionalizzazione di cui si parla tanto. È stata una scommessa che l'assessorato al turismo e alla cultura ha voluto fortemente e insieme al direttore artistico Girolamo Marzano si è sviluppato questo Castellabate, il luogo dell'incanto. Nel frattempo ci spostiamo visitando il centro storico di Castellabate, dicevamo Enrico un progetto di destagionalizzazione che ha portato i suoi frutti. Ha portato i suoi frutti però ha messo anche in risalto quello che manca nel nostro territorio, è un teatro coperto che ci dia la possibilità di sviluppare e di macinare cultura anche d'inverno. Noi dobbiamo ringraziare i nostri parroci che ci hanno dato la possibilità di usufruire delle chiese per i concerti però questo territorio ha sempre di più sete e fame di cultura attraverso un teatro tenda, un teatro al chiuso. L'appuntamento dunque per il 30 di marzo e si ripete poi domenica 31. Si ripete domenica 31 in un altro angolo molto bello del nostro territorio, la via vecchia marina di San Marco di Castellabate, la via che conduce dalla piazza comunale all'antico approdo greco-romano e che dall'approdo greco-romano porta nel cuore del paese di San Marco. Via marina che sarà un teatro naturale insieme al Palazzo De Angelis e noi ne approfittiamo per ringraziare la disponibilità proprio della famiglia De Angelis che ci dà la possibilità di sviluppare questo Ius Primen Octis proprio all'interno di Palazzo De Angelis in varie angolazioni, in varie sfumature di colore, giochi sapienti di luci, insomma è tutto da vedere. Io voglio ringraziare anche chi contribuisce alla realizzazione di questo spettacolo Ius Primen Octis, in primis Amedeo Colella che ormai è un castellabatese docche anche se vive sulla sua napoletanità e soprattutto in questi ultimi tempi è conosciuto anche a livello internazionale. Ci fa molto piacere che ha cominciato proprio questa esperienza tra queste pietre, in questi slarchi. Ringraziamo gli attori, cominciamo per proprio cavalleria a ringraziare Mariella Boiano, ringraziamo Orlando Di Scola, il bravissimo Otello Carratù, Marco Ciullo e quest'anno abbiamo anche la regia sapiente dei costumi che daranno quel tocco particolare a questo Ius Primen Octis. Castellabate, il luogo dell'incanto, è un progetto cofinanziato dalla Regione Campania, un POC Campania 2014-2020, è realizzato dall'assessorato al turismo e alla cultura, diretto da Luisa Maiuri con il direttore artistico Girolamo Marzano. È Castellabate da vivere, Castellabate da visitare, è Castellabate da godere. Vi aspettiamo nel Borgantico di Castellabate, sabato 30 marzo alle ore 20.30 e a San Marco di Castellabate domenica 31 marzo alle ore 19.30. Mi raccomando, cambiate l'orario.